Il Papa Francesco ha aperto la Porta Santa di Santa Maria Maggiore, quarta basilica papale compresa nel programma delle cerimonie legate al Giubileo straordinario della Misericordia. La Porta Santa che abbiamo aperto, ha detto Papa Francesco nell'Omelia della Messa, è di fatto una Porta della Misericordia. Chiunque varca quella soglia è chiamato a immergersi nell'amore misericordioso del Padre, con piena fiducia e senza alcun timore, e può ripartire da questa basilica con la certezza che avrà accanto a sé la Compagnia di Maria. Anche oggi a Roma blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all'interno della fascia verde, dalle 7.30 alle 20.30. È stato, inoltre, ribadito che sull'intero territorio comunale la temperatura per il riscaldamento di case e uffici non superi il valore massimo di 18 gradi. Due interventi in via delle cave ardeatine, sono stati effettuati dagli uomini della Polizia di Roma Capitale, per il contrasto al degrado e all'abusivismo commerciale. Agenti in moto hanno contrastato gli abusivi che tentavano di vendere materiale di ogni tipo, sia rovistato dai cassonetti dell'immondizia che di provenienza dubbia. Le operazioni al contrasto di questo tipo di illegalità e degrado continueranno ad essere portate avanti nei prossimi giorni.